eeeh Bessaaaa uno a uno seee è il sessantottesimo minuto Bessaaaaa pareggia uno a uno allo eventu stadium guarda qui e poi dite che sono sono taroccate le live dite che come cazzo sono che ne sono falsi, che le faccio dopo eeeh guarda qui zitti e muti qui per tutti i ragazzi